Rinvia giudizio per tutti e cinque gli imputati, questa la decisione del GUP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea nell'ambito del procedimento giudiziario sui tetti di spesa delle cliniche private per l'anno 2010 che conta tra gli imputati l'ex governatore abruzzese Gianni Chiodi, l'ex subcommissario alla sanità Giovanna Baraldi, l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni, oltre a due tecnici dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali. Nel mirino della procura di Pescara c'è il ridimensionamento dei tetti di spesa. Secondo l'accusa, Chiodi, coinvolto in qualità di ex commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai debiti della sanità, avrebbe fatto firmare alle cliniche private contratti di prestazione di assistenza ospedaliera collegando la firma al pagamento dei crediti che le cliniche vantavano nei confronti della regione. Secondo l'accusa, l'ex presidente avrebbe fatto pressioni sulle cliniche per far firmare quei contratti e avrebbe tenuto un generale atteggiamento ostruzionistico volto a non fornire i dati per procedere all'attuazione della metodologia utilizzata per realizzare i tetti di spesa. Le accuse a vario titolo sono falso, violenza privata e abuso d'ufficio. Il procedimento prese il via da un esposto presentato dai titolari di alcune cliniche private. Ritenevamo, come dire, inevitabile e imprescindibile una verifica dibattimentale. Questa non è una pronuncia di condanna, è il rinvio a giudizio degli imputati. Nel dibattimento avremo modo di dimostrare che quello che abbiamo denunciato, dedotto e argomentato in sede di udienza preliminare è a nostro avviso anche più che sufficiente per fondare la responsabilità degli imputati. 6 dicembre, davanti al collegio, presieduto alla dottoressa di fine, quindi insomma, magistrato di grande valore e esperienza, una garanzia per tutti sicuramente. L'ex presidente della regione Chiodi si dice comunque sereno rispetto alla possibilità di dimostrare la sua estranetà ai fatti e anche rispetto al lavoro svolto quando era capo della regione. Io mi sento fiero di quello che ho fatto, ho moralizzato un sistema, ho fatto sì che ci fossero i contratti. In Abruzzo non c'erano i contratti, ragavamo 200 milioni di euro, la sanità privata, senza un contratto ed era un fornitore. Mentre invece per tutti gli altri, per qualunque cosa, c'è bisogno di un contratto. La legge prevedeva che ci fossero e ho voluto che ci fossero. I contratti regolano non solo i budget, ma regolano anche i controlli, regolano tutto e quindi era necessario che ci fossero. Trovarsi imputato per questo, insomma, non fa bene, però io ritengo che mi dia la possibilità, anche grazie a queste interviste, magari attrarne una considerazione personale che magari nei momenti in cui facevo queste cose non mi veniva riconosciuta, forse adesso mi viene riconosciuta dagli abruzzesi.